cosa sta succedendo tra fedez e chiara ferragni le voci su una presunta crisi si rincorrono da giorni e hanno raggiunto il culmine proprio questo fine settimana quando l'influencer è stata vista entrare in un palazzo del centro di milano dove allo studio uno dei più prestigiosi avvocati divorzisti d'italia a riportare la notizia vanity fair anche se il team dell'imprenditrice ha smentito fatto sta che il weekend per la coppia è stato all insegna della lontananza sabato il rapper è stato a casa con un suo amico come ha mostrato tra le storie instagram mentre la moglie era fuori con i figli domenica invece i bambini sono stati con lui a casa dei genitori e l'imprenditrice era pranzo con la sorella francesca suo marito riccardo e il piccolo edoardo che ha coccolato tutto il tempo insieme ad altri amici due giorni da separati che sembravano confermare i rumors poi il colpo di scena domenica sera fedez ha pubblicato una foto della famiglia al completo ricondivisa dalla moglie smantellando quanto si sta vociferando da giorni sul divano stretti ai figli leone vittoria i due sono tornati a farsi vedere insieme dopo settimane smentita o depistaggio nello scatto la coppia appare serena ma perché allora ultimamente sono quasi pari a zero i momenti che trascorrono insieme di certo non è un bel periodo in casa ferragnez tra pandoro gate e altri affari di famiglia con questa foto però la coppia dimostra di voler superare anche questa tempesta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti